Calcio, atletica leggera e pallacanestro nell'appuntamento odierno con il TG Sport di Telesveva apertura dedicata al campionato di serie di microfono per Marco Stranges, grande protagonista con l'assist ad Adamo nella vittoria della Fidelisi domenica scorsa con il Pomigliano, l'esterno offensivo calabrese però sa di poter dare ancora di più alla causa biancazzurra La partita in riferimento e a quella giocata domenica scorsa al Degli Olivi tra Fidelisandri e Pomigliano valida per l'ottavo tour del campionato di serie di cambia decisamente volto al ventottesimo minuto della ripresa sul risultato ancora bloccato sullo 0-0 Alessandro Potenza, il tecnico dei padroni di casa decide di modificare il proprio scacchiere e proporre un'avversione della sua squadra a trazione anteriore Dentro Stranges e Adamo, fuori Zingaro e Piperis Mossa non azzeccata di più Vedere per credere Stranges, 11 minuti più tardi, confeziona un assi sontuoso Adamo completa l'opera beffando Caparro sul primo palo Lo stesso Adamo poi raddoppia in pieno recupero su invito di Aina Vince ancora la Fidelis dunque Lo fa per la terza volta consecutiva e colleziona il quinto risultato utile di fila irrompendo in piena zona playoff nel girone H Decisivo Adamo, decisivo anche Stranges Sono molto contento per l'assiste a Manolo e sono contento soprattutto per la sua doppietta che era da tempo che aspettava questo momento Sono contento soprattutto per la squadra Stiamo dimostrando il nostro valore partita dopo partita Marco Stranges, esterno d'attacco classe 99 nativo di La Mezza Terme e un giocatore di grande qualità lo ha dimostrato domenica scorsa nei pochi minuti giocati con il Pomigliano lui, parole del diretto interessato, può e deve fare molto di più Le mie prestazioni secondo il mio parere sono da 6 perché ancora ho fatto vedere qualcosa ma non tutto con la fiducia del mister se continuo così spero di poter fare tante altre cose per quanto riguarda l'ambientamento d'Andrea io penso che Andrea è una piazza fantastica che veramente giorno dopo giorno mi trovo sempre meglio e sono sempre più contento di questa scelta Ambientamento ottimo, gruppo ottimo a confermarlo al termine della partita vinta con i campani l'abbraccio della squadra capitano Gaetano Iannini costretto al forfè per il fortunio Gaetano per noi è un faro veramente lui è stato sempre il primo a dirci che siamo una squadra forte il primo a crederci e veramente lui voglio dire che è il 100% di questa squadra perché veramente è una persona fantastica e tira il meglio da ognuno di noi pur essendo ancora molto giovane Stranges ha già giocato in piazze importanti ma è rimasto impressionato dalla passione del pubblico andriese qua sembra di stare in Serie C come si stava a Cosezza a Messina un po' meno perché mancava un po' il pubblico per quanto riguarda per ciò che succede soprattutto là col presidente, la squadra sta andando un po' male però Andrea è veramente una piazza molto bella mi trovo veramente bene, calorosa, uno spettacolo La Fidelis ora deve dimostrare di non soffrire di vertigini in arrivo c'è la settimana della verità con tre incontri concentrati in otto giorni domenica prossima la sfida alla vice capolista Cerignola in trasferta mercoledì il derby interno con il Bitonto nel turno infrasettimanale della decima giornata quattro giorni dopo l'insidiosa trasferta di Torri annunziata con il Savoia Ogni partita come dice il mister è una finale per quanto riguarda la classifica siamo lì il nostro obiettivo è la salvezza è un obiettivo solido e tutti quanti puntiamo a quello lì però siamo ragazzi e soiamo come tutti quanti Ottimo momento per la Fidelis Andria ottimo momento parliamo ora del campionato di eccellenza per la Vigor Trani da quando c'è Giuseppe Scaringella al timone della squadra i Biancazzurri hanno collezionato cinque risultati utili consecutivi e hanno sempre conservato l'imbattibilità della propria porta sino alla triplice fischio domenica prossima c'è la classica prova del 9 per la Vigor che sarà di scena al Capozza sul campo della Capolista Casarano Eccola la graduatore del campionato di eccellenza dopo nove giornate eccolo lì in alto il Trani terzo in condominio con Molfetta Calcio Terlizzi, Forti, Saltamura e Gallipoli alzi il dito che avrebbe scommesso un solo centesimo su una classifica del genere per la Vigor dopo la sconfitta del quarto turno a Brindisi che poi ha provocato il cambio della guida tecnica sollevato dall'incarico Giuseppe Sangirardi scelto al suo posto Giuseppe Scaringella uno dei segreti della rinascita biancazzurra sta proprio nell'avvicendamento al timone del gruppo con il nuovo allenatore infatti i tranesi non hanno mai perso hanno collezionato 11 punti sui 15 a disposizione nelle ultime cinque partite conservando sempre l'imbattibilità della propria porta Scaringella ha esordito alla guida della Vigor nello 0-0 interno con il Terlizzi a seguire successo 2-0 a San Severo con l'alto tavoliere vittoria 1-0 in casa con la Molfetta Sportiva 0-0 esterno sull'ostico campo della Forti Saltamura e storia di domenica scorsa 1-0 davanti al pubblico amico del Comunale nel derby della Bat con l'Unione Calcio solo conferme positive dunque nella sfida contro i Bicegliesi soprattutto per quanto concerne la solidità difensiva e l'abnegazione ci aspettavamo una partita difficilissima in virtù anche del fatto che avevano cambiato allenatore domenica scorsa avendo anche ottenuto un punto importante dopo una prestazione importante quindi ci aspettavamo tante difficoltà è chiaro che bisogna soffrire bisogna soffrire i ragazzi sono stati bravi ripeto a soffrire nel momento giusto senza concedere tantissimo siamo stati ripeto anche un po' fortunati ma bravi a colpire nel momento opportuno la recente sequenza di risultati positivi ha messo in risalto non solo l'ottimo lavoro che sta svolgendo Giuseppe Scaringella ma rivaluta a pieno titolo il mercato operato la scorsa estate dal direttore sportivo Francesco Morgese ora la vigor è attesa dalla classica prova del 9 perché domenica prossima affronterà al capozza la capolista Casarano allungare la serie utile non sarà semplice ma il Trani ha le carte in regola per riuscirci contro la principale favorita per il salto di categoria io spero che questa striscia di risultati utili ci dia maggiore sicurezza perché i ragazzi hanno qualità però a tratti si vede pure che hanno poca autostima di se stesse e consapevolezza dei propri mezzi possiamo giocare e divertirci tra virgolette con tutte le squadre poi il risultato è sempre aleatorio nel calcio è frutto di tante situazioni però se ci sono queste prerogative i ragazzi possono comportarsi bene anche in un campo tostissimo come quello di Casarano archiviata la pagina del calcio ora apriamo quella dedicata all'atletica leggera barletta capitale della Maratona Azzurra in questi giorni grazie ad un raduno federale ci sono due campionesse internazionali del calibro di Valeria Straneo ed Anna Incerti c'è anche la barlettana Veronica Inglese lo ricordiamo argento nella mezza maratona agli europei di Amsterdam nel 2016 Barletta al centro dell'atletica leggera italiana una tradizione consolidata nel segno di Pietro Mennea che rivive in questi giorni in città grazie al primo raduno di maratona organizzato dalla FIDAL in corso fino al 9 novembre Valeria Straneo argento mondiale di maratona nel 2013 Anna Incerti oro europeo nella maratona 2010 e la barlettana Veronica Inglese argento continentale in mezza maratona nel 2016 si stanno allenando dal 28 ottobre tra lo stadio Puttili e la Litorania di Ponente a monitorare le loro prestazioni l'allenatore specialità di fondo Massimo Magnani questa volta siamo riusciti a strutturare un raduno ufficiale con la federazione speriamo che sia il primo di una serie che vada continuando nel tempo lo stadio di Barletta da poco appunto inaugurato e ancora in via di ultimazione è sicuramente un campo idoneo da una parte stimolante dall'altro perché è il campo dedicato a Pietro Mennea da padrona di casa alla inglese è spettato il doppio compito di atleta e guida fuori dal campo un pizzico di emozione nelle parole della 28enne barlettana è stupendo fare un raduno e sapere di essere a casa propria ma soprattutto anche per quello che il raduno sta portando alla città, ai ragazzi perché non solo ragazzi devo dire anche tutto il mondo amatoriale soprattutto perché ovviamente essendo un raduno di maratona la maggior parte degli allenamenti vengono svolti su strada e sappiamo che sulle strade di Barletta il movimento amatoriale è grandissimo è fortissimo anche e quindi gente che ci incrociava insomma ovviamente erano spronati erano entusiasti di vederci e di vedere non solo me perché a me mi vedono insomma tutti i giorni però soprattutto loro che comunque sono due grandi campionesse Sport e promozione del territorio un incrocio dal segno positivo nelle parole del consigliere regionale Ruggero Mennea Qui è nato un grande campione come Pietro Mennea c'è stato anche Putilli insomma è una città che rappresenta simbolicamente lo sport, l'atletica in tutto il mondo e credo che questo possa essere un motivo per utilizzare lo sport per promuovere il territorio e anche destagionalizzare il turismo Corsa ma anche scoperta di una regione sin qui quasi ignota il tutto in un clima mite che la stranio e la incerti esaltano augurandosi di tornare presto a Barletta Ci siamo trovate molto molto bene è quello che ci aspettavamo cioè trovare una bella accoglienza un bel luogo e tanto sole anche se in realtà comunque negli ultimi giorni non ha fatto sole ma si stava benissimo proprio caldo abbiamo corso bene sia in pista che sul lungomare che in campagna quindi non ci siamo fatti mancare niente Devo dire che a Barletta c'è tutto per correre bene tanto il clima c'è i percorsi ci sono puoi variare il cibo c'è io sono siciliana quindi sapevo di questa grandissima accoglienza del sud e quindi sono venuta molto volentieri e spero di ritornarci Chiusura dedicata alla pallacanestro però oggi parliamo del campionato di Serie C Gold la Lupalecce vince ancora si aggiudica lo scontro d'alta quota con il Monopoli e si conferma in vetta al punteggio pieno di questo torneo non riesce a trovare continuità nei propri risultati invece Ruvo 5 partite senza sbagliare un colpo è targato pallacanestro Lupalecce il primo scorcio del campionato pugliese di Serie C Gold senza l'acciaccato malaventura la squadra di coach di Salvatore esce indenne anche dalla trasferta di Monopoli nell'incrocio fra le due squadre a fronteggio pieno sebbene Action Now abbia disputato una gara in meno i giallorossi sfoderano Umbrajkovic da 24 punti aggiudicandosi per 68-60 un confronto equilibrato ma sempre in controllo sull'altro fronte ben 29 punti per Bosniak in attesa di recuperare l'incontro di Francavilla e i monopolitani sono agganciati a quota 6 da Vieste Cussionico Cestistica Ostuni e Nuova Pallacanestro Ceglie i gialloblu Brindisini sono corsari rispettivamente ad Altamura e Monteroni decisivo per la squadra di coach romano il dirompente a lungo nel terzo periodo che cristallizza il più 4 finale 69-64 invece per Ostuni con ben 26 punti Di Leo 4 giocatori in doppia cifra fra i murgiani su tutti spampinato con 14 esordio con vittoria sulla panchina di Ceglie per coach Putignano in casa di Nuova Pallacanestro Monteroni i suoi mettono il turbo dopo l'intervallo con 21 punti di Zvetanovic il miglior marcatore del match e però Raupis con 22 torna intanto la vittoria Vieste contro ruvo che non riesce ancora a trovare continuità all'Omnisport finisce 68-57 con 40 punti complessivi del duo Samia Markovic determinante per scavare il solco il 14-0 in anellato dai garganici del terzo quarto nonostante i 23 punti finali di Bagdonavicius fattore campo rispettato al Palafiom dove Cus Ioni corregola Francavilla per 82-74 anche in questo caso inerzia ribaltata nel terzo periodo quando la squadra di coach Caricasole converte il meno 10 di metà gara grazie anche ad un Giovara da 20 punti classifica fluida pure sul fondo dove Mola New Basque 2012 si sblocca contro Castellaneta segnali incoraggianti da parte dei Biancorossi che vanno all'intervallo sul più 5 ma alla ripresa del gioco Gachette autentico mattatore con 31 punti trascina i padroni di casa fino all'86-67 finale sull'altro fronte invece 25 punti per Petritis nella stessa giornata occhi puntati su Ruvo, Monopoli, Ceglie, Taranto e Lecce, Altamura era questo il nostro ultimo servizio grazie per la cortese attenzione e vi aspetto per le prossime edizioni del TG Sport a tutti chiamo Grazie.